La prima domanda che una donna si fa quando è colpita da sclerosi multipla, quando riceve la diagnosi di sclerosi multipla, è perché proprio a me. Questa domanda non ha una risposta, ma rappresenta il tentativo di ognuna di noi di spiegarsi un evento così imprevedibile e così minaccioso. Grazie a tutti.